Stranezze nell'assunzione e gestione del personale dell'ente parco Appennino Lucano. A sottolinearle il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Perrino, che già un anno fa aveva presentato un'interrogazione in merito ad alcuni concorsi, a suo parere anomali, banditi dal parco. A distanza di un anno ancora stranezze. Nonostante la carenza di personale attestata dallo stesso ente parco, fa notare il consigliere, tra il 2014 e il 2016 risultano almeno 5 dipendenti dell'ente parco in comando presso altre amministrazioni pubbliche, tra cui la segreteria particolare del Presidente Pittella, il Dipartimento di Protezione Civile, il Comune di Vigiano e quello di Rotondella. Nel contestare l'uso disinvolto che l'ente parco fa dell'Istituto del Comando, Perrino pone interrogativi per comprendere quali sono le esigenze urgenti e improrogabili alla base di tale scelta. Si chiede cioè perché l'ente parco continua ad assumere a tempo determinato e quali le motivazioni dietro al distacco presso la Regione Basilicata di un'unità assunta appena 19 giorni prima dall'ente parco a tempo determinato.